e sembra che il premita sia la cazzo no da rumore intendevo bc ti dava fastidio ma sai che cos'è l'ho visto pure va più lento rispetto al normale proprio perché siamo dei dammi ci sono tutti i dammi intorno a me seleziona pure le forse tutti quanti ecco perché volerla va più lento le stacca più spesso no 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 no